Musica Oggi inauguriamo con molta gioia MediMage uno spazio di 1700 metri quadri che vedrà per tre anni il riutilizzo con 15 atelier di realtà del settore della moda e del design sostenibile Un pomeriggio così esprima l'entusiasmo e la speranza la speranza che vogliamo dare a giovani creativi che trovano difficoltà ad avere spazi messi a loro disposizione per sperimentarsi in un percorso legato alla sostenibilità nel linguaggio della moda, nel linguaggio del design e che qui trovano un luogo comune dove poter condividere competenze e esperienze ma soprattutto sostenibilità economica e quindi dar loro l'opportunità di poter realizzare un sogno Sindaco anche lei ha passeggio per quest'area completamente rimessa a nuovo e riutilizzata, cosa ne pensa? Beh per me è molto emozionante anche perché data la mia età l'ho vista quando era altra cosa e quindi il recupero di una struttura storica della città con una funzione giovanile credo che sia per noi straordinariamente importante Tre anni durerà? Tre anni almeno durerà come recupero temporaneo Naturalmente qui intorno sta nascendo il progetto di recupero delle aree falche e poi lì dentro troverà una sua sistemazione definitiva